Il colesterolo è un nemico silenzioso perché non dà segnali ed è sottovalutato da oltre il 40% degli italiani che mantenendo un buono stile di vita pensano non sia necessario controllarlo. Appartiene alla famiglia dei lipidi o grassi ed è una delle componenti della membrana delle cellule ed è presente nel sangue e in tutti i tessuti. Viene in gran parte prodotto dall'organismo mentre in minima parte viene introdotto con la dieta. Quando i livelli circolanti sono alti costituisce uno dei fattori di rischio maggiori per le malattie cardiovascolari. Quanto pesano le malattie cardiovascolari sulla salute dei calabresi? Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nei paesi occidentali, in Italia ed anche in Calabria rappresentando il 38% delle cause di decesso nelle sue forme più gravi con infarto ed ictus. Questa mortalità è quasi doppia rispetto a quella per tumori che pure vengono percepiti con grande allarme legittimamente dalla popolazione ma dobbiamo avere ben presente che la prima causa di morte sono le malattie cardiovascolari. I fattori di rischio principali che possono portare ad avere eventi cardiovascolari sono il fumo, il diabete, l'obesità, l'ipercolesterolemia cioè l'aumento dei livelli di colesterolo e in particolare di quello cattivo LDL circolanti nel sangue. Per fortuna questo è uno dei fattori di rischio che possiamo meglio controllare perché disponiamo di molti farmaci che agiscono con diverse vie di azione e di somministrazione in grado di ridurre grandemente i valori di colesterolo LDL. Quanto è importante la gestione territoriale dell'ipercolesterolemia a fianco delle cure innovative? Dopo un evento acuto il paziente normalmente si trova in un reparto ospedaliero dove viene istituita la terapia ottimale per controllare i suoi livelli di colesterolo. Noi non abbiamo alcun problema a raggiungere i livelli di colesterolo ideali per pazienti a rischio cardiovascolare molto alto. Il grande problema è quello di mantenerli nel tempo ed ecco che quindi diventa fondamentale un'interazione con il territorio e quindi in particolare con il medico di medicina generale e con i cardiologi territoriali con i quali concordare le strategie terapeutiche migliori. I farmaci orali in particolare le statine sono la base del trattamento però nel corso di questi decenni si è sempre registrato una percentuale di abbandono legata a sintomi spesso non direttamente correlati all'uso dei farmaci. Ci sono nuove soluzioni terapeutiche con farmaci per via iniettiva in particolare Inclisiran che è somministrabile due volte all'anno in grado di controllare con grandissima efficacia i livelli di colesterolo. Inclisiran è un principio attivo prescrivibile anche in Calabria, ce ne può parlare? Inclisiran rappresenta una vera e propria novità nell'ambito terapeutico cardiovascolare. È definita una terapia di silenziamento genico in che senso? È una piccola molecola di acido ribonucleico definito SIRNA, Small Interfering RNA. In parole semplici questa piccola molecola va a legarsi alla proteina PCSK9 riducendone la sintesi proteica. L'effetto che noi abbiamo è che a livello del fegato vi è un maggiore riciclo dei recettori per l'LDL che si traduce in una riduzione dei livelli circolanti di colesterolo LDL con una riduzione del colesterolo LDL superiore al 50%. Chi può assumere Inclisiran? Per assumere Inclisiran ci vogliono dei criteri molto specifici, dei criteri di prescrivibilità e di rimborsabilità. Quindi i pazienti per avere diritto a questa terapia devono affidarsi nelle mani di specialisti che lavorino in centri i prescrittori accreditati. Vi è un controllo tra l'altro anche da parte della piattaforma AIFA perché il prescrittore deve fare un piano terapeutico online su AIFA.